Qualche rinforzo in più rispetto alla prima chiamata del mattino ha sbloccato poi la stasi, l'assise civica, pur in assenza dell'intero centrodestra. Ieri ha approvato le variazioni di bilancio che la crisi finanziaria dell'ente hanno reso essenziali per mantenere finanziamenti per importanti progetti già realizzati o in corso d'opera. In caso contrario gli stanziamenti avrebbero dovuto intraprendere la strada del ritorno in direzione della regione con un evidente danno erariale per il municipio comunque costretto a coprire i costi sostenuti dalle aziende esecutrici dei cantieri. Il capogruppo civico Davide Sincero come già fatto negli scorsi giorni ha voluto stigmatizzare l'assenza in aula di un'intera classe politica quella appunto del centrodestra. I consiglieri dei partiti d'aria infatti hanno scelto la linea dura e non hanno partecipato al voto sulle variazioni di bilancio per i progetti. Già l'assessore Romina Morselli aveva spiegato che così facendo proprio il centrodestra si rendeva responsabile di bloccare le opere. La presenza è stata garantita da progreco e responsabili. Con l'approvazione delle variazioni di bilancio di fine anno vengono garantiti alcuni dei più importanti progetti già conclusi o comunque in via di definizione. Adesso l'aula dovrà comunque pronunciarsi anche sulla rideterminazione di IRPEF-IMU così come dettato dalla dichiarazione di dissesto dell'ente.